Da due giorni regna un silenzio surreale a Torrenova, chiusa nel dolore per la tragica morte del concittadino Salvatore Caleca, 43 anni, il prossimo 22 agosto, e di sua moglie Michela Bucci, 40 anni, di origini pugliesi. La coppia sabato 10 agosto era partita insieme alle loro bimbe di 1 e 5 anni, proprio dalla Puglia, dove erano arrivati da Roma, città di residenza, per raggiungere Torrenova. Qui dovevano trascorrere le vacanze insieme ai familiari ed amici. Un viaggio che era giunto quasi a termine, mancavano solo una quindicina di chilometri allo svincolo di Rocca di Caprileone, sulla 20, dove sarebbero dovuti uscire per arrivare a casa. Ma poco prima dell'uscita di Brola al chilometro 84, intorno alle 14, per causa in corso di accertamento, l'Alissan Cascai, sulla quale viaggiavano in direzione Palermo, sbanda. Sbatte prima a sinistra della careggiata contro il guardrail e poi a destra, restando incastrata nella barriera di protezione. Uno schianto terrificante, un boato avvertito persino da residenti della zona, che non ha lasciato scampo a Salvatore, che era la guida dell'auto, e a Michela, che viaggiava sul sedile posteriore insieme alle due piccine, ben salde, sui loro seggiolini. A lanciare l'allarme gli altri automobilisti, che hanno subito estratto le piccine dalle lamiere, poi le sirene delle ambulanze del 118, dei vigili del fuoco e della polstrada della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha effettuato i rilievi. Sul posto anche l'ispettore capo Massimiliano Fiasconaro, comandante della polstrada di Sant'Agata di Militello, a supporto dei colleghi e il personale del CAS. Il tratto tra Brolle e Patti è stato chiuso per consentire i rilievi. Le due piccole sono state affidate alle cure dei sanitari che le hanno trasferite al pronto soccorso del barone Romeo di Patti per gli accertamenti del caso. Le bimbe illese sono rimaste in osservazione per tutta la notte, solo una ha riportato una lieve scorreazione. Accanto allora i familiari, che non le hanno lasciate un attimo. Straziante la testimonianza postata via social da un medico soccorritore del 118 che ha prestato le prime cure alle bimbe, la notizia si diffonde nel giro di pochi minuti a Torrenova. In credo i cittadini e amici si stringono attorno alla famiglia di Salvatore, molto conosciuta e stimata. Le cause dell'incidente sono al vaglio delle autorità. Non si esclude nessuna ipotesi, dal malore al guasto tecnico. Per questo sulla salma del 42enne trasferita al papardo di Messina, a martedì 13 agosto sarà eseguita l'autopsia disposta dal pubblico ministero di turno. Il corpo della moglie invece è stato condotto al policlinico per essere sottoposto a espizione esterna. Tutto l'Interland è sotto shock, tanti messaggi di cordoglio e dolore, parenti, amici che conoscevano il giovane, mite, sempre sorridente, amato dai familiari e dagli amici, che in passato era stato anche presidente della locale squadra di calcio amatoriale, con cui aveva vinto un campionato WISP. Il Comune ha sospeso le manifestazioni in programma per ieri ed oggi. Lutto cittadino già annunciato per il giorno dei funerali, di cui non si conosce ancora la data. Il pensiero e l'abbraccio delle comunità va alle famiglie delle vittime e alle figlie di Salvatore e Michela, la cui tragica esperienza tocca il cuore di tutti.